ciao ciao amici benvenuti bentornati qui sul mio canale sono il carletto sono qui nel mio angolo delle recensioni se non lo avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale mettete questi like questi pollici allora che dire mi arriva il pacchetto della blitzway 5 pro studio voltron siete una rasma papapapapa e mi ritrovo le povere bestiole i nostri 5 gli oncini fuori dalla scatola che mi fanno una faccia così addirittura non riuscivano più a ruggire perché proprio dopo giorni e giorni di viaggio dal giappone arrivare fino qua in italia avevano perso tutte le forze arrivano qui in italia tutti li torturano sotto recensione senza farli mangiare qualcosina e farli bere qualcosa allora mi hanno promesso facci bere mangiarli ho fatti già mangiare ma vedete poi nella sconella si sono frecate un litro d'acqua adesso li abbiamo sfamati li abbiamo fatti abbeverare hanno bevuto hanno scolato tutto quanto e quindi mi hanno promesso che sono pronti a ritornare nella scatola perché gli amici voglio essere precisi vogliono vedere la box e per la scatola vedere che escono dalla scatola tutto quanto quindi cosa facciamo adesso che loro hanno bevuto e mangiato ritorna nella scatola e parte la recensione del nostro voltolo 5 pro studio fatta veloce fatto vedere le cose più importanti bene 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 nel dettaglio ci siete pure io mi devo bere qualcosa mamma mia che siete che caldo arrivata l'estate dai ragazzi in scatola tutti quanti via eccoci qua amici leoni sono tornati in scatola e che dire adesso vi faccio vedere una cosa che mi è capitata e devo ringraziare veramente con tutto il cuore massimo perché questo voltron qualla l'ho preso per il massimo è successo una cosa e nonostante questa cosa che è successa praticamente lo ritira lo stesso è veramente un santo quest'uomo ragazzi di veramente san massimo veramente san massimo di sesto preghiamo per te san massimo di sesto preghiamo per te perché lui ha comprato ragazzi questo voltron qua non ho trovato me lo sono fatto mandare a me così facevo la recensione e glielo davo praticamente arriva e mi trovo un buco guardate qua ragazzi lo vedete questo buco passa da parte a parte l'ho dovuto spingere fuori guardate qua adesso io non capisco se chi l'ha spedito se i corrieri non si riesce a capire non sono riuscito a risalire fatto sta che mi era stato detto che me la dovevo prendere in quel posto io ho chiamato massimo detto non ti preoccupare lo tengo io fa niente non ha detto no no al carlo non ti preoccupare non mi interessa non sono uno di quei fanatici dammelo lo stesso è veramente lo devo ringraziare perché questo qua non è una cosa da poco è inaccettabile soprattutto su un prodotto da 700 euro e che dire niente purtroppo è così niente andata così lasciamo stare poi quello che è successo che si chiacchiera pur parli e ma non si era trovato una soluzione quindi ringrazio veramente comunque il massimo che una persona d'ora ci sono veramente poche persone così torniamo a noi alla recensione ma sapete che io voglio condividere tutto con voi faccio le recensione anche per ridere scherzare e parlare farvi sapere a voi tutto quanto tenterò di farla però più breve degli altri allora questo il fronte l'abbiamo visto bene che mi ho fatto vedere anche il pertugio questo era la parte dietro con tutti la paia chi ha lavorato a quest'opera d'arte che comunque veramente bello troppo costoso io sono contrario ai robot così costosi questo è un laterale guardate che bello questo è l'altro laterale guardate qua è veramente anche packaging bello 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 peccato veramente adesso qua per questa cosa qua ma ringrazio ancora massimo dai apriamolo vediamo tutto quanto nel dettaglio come mi piace a me fare poi vediamo i leoni girare robot girare e concludiamo dai 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 eccoci qua partiamo allora nel packaging ragazzi troviamo un primo blister sopra con i robot un secondo blister vedete dove qua c'è l'alloggio della basetta che vi farò vedere io e di queste parti bianche che ci servono da mettere nella basetta ragazzi che non andrò a montare però vi faccio vedere le cose interne perché si infilano qua possiamo far la scena anche con i leoni in volo poi guardate che figata bellissimo guardate quel simbolo qua si alza vediamo se ce la faccio c'ha i magneti guardate qua si alza c'ha i magneti al di sotto troviamo tutti gli accessori che non andrò a montare fare una recensione veloce ma ve le faccio vedere così nel dettaglio guardate sono pure spostati comunque abbiamo possiamo andare a intercambiare la testa al nostro voltron questa che grida poi queste qua sono tutte le armi che possiamo andare a mettere vedete sui leoni fatte veramente veramente bene qua ci hanno gli hanno fatto una specie di alloggio ragazzi che però vedete in alcune tiene in altre sono in giro vedete alcune tengono altre no però è stata una bella idea guardate anche qua la spada qua la messa dritta vediamo se riusciamo a farlo stare guardate che è stata una bella idea dell'incastro così nella basetta è una cosa che mai saltato questa è bella vedete adesso ve le faccio vedere le più belline perché dopo non stiamo a metterle sui leoni li vediamo solo girare per farvi vedere le proporzioni l'uno tra l'altro ma le armi ve le voglio far vedere comunque tutto quelle colorate secondo me sono bellissime quelle come potete vedere in plasticone non mi fanno impazzire però vedete c'è 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 un'ottima un'ottima idea un'ottima lavorazione queste cose ve lo fate vedere tutte poi guardate così col magnete e chiuso e lo possiamo riporre da parte quindi mettiamo via il primo blister adesso vi faccio vedere il secondo blister ragazzi troviamo libretto di istruzione che è molto interessante fatto benissimo guardate perché hanno fatto un principio di funzionamento qua per la trasformazione eccezionale che poi vi farò vedere non mi è piaciuto il troppo complicato gli occhi dai led negli occhi del leone centrale con le due sulle braccia non mi sono piaciuti un granché non durano niente andava messo una batteria come in iron man ricaricabile e sarebbe una figata questi led negli occhi invece così con la pila che dura un niente è una cosa completamente inutile che poi vi farò vedere a fine recensione qua vi ci fa vedere tutte le trasformazioni da leone a robot e viceversa hanno avuto un'idea stupenda di vedete allungare in avanti la gamba andare a chiudere nascondere la parte che va a sua volta a nascondere la zampa e qua all'interno dell'abitacolo vi faccio vedere ci sono i personaggi poi in 12 leoni ve lo faccio vedere e poi vedi ci fa vedere tutte le trasformazioni libretto veramente realizzato benissimo ragazzi benissimo non si può dire niente poi cosa troviamo oltre al libretto di istruzione troviamo i piloti questi qua sono da mettere nella scenetta se vogliamo fare leoni in volo nella basetta perché poi ogni leone all'interno ha seduto il suo personaggio che non serva a niente perché non si vede e quindi è una cosa secondo me un po inutile poi qua ci dice come andarla ad aprire di prestare attenzione questi sono i numeri da mettere sui leoni ragazzi sto tentando di andare velocissimo che c'è tanta roba poi allora ci fa vedere questa cosa qua molto interessante che è la parte come andare a sostituire vedete a mettere il led negli occhi dei leoni questa cosa non la faremo non mi piace perché complessa la spada è eccezionale lavorata benissimo ragazzi fatta veramente veramente bene 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 non si può dire niente come anche lo scudo lo scudo vedete fatto veramente veramente bene adesso vi faccio vedere allora i leoni ve li faccio vedere prima in leoni e poi vediamo girare poi in versione praticamente trasformata adesso vediamo come fa allora qua ho già fatto praticamente il primo leone blu guardate tanto metallo su questi qua delle gambe principio di funzionamento eccezionale perché questa parte qua quando lo trasformiamo in robot va a coprire completamente guardate qua con questo principio di funzionamento si alza questo qua e va a coprire completamente la zampa che poi viene nascosta vedete quindi questa cosa qua è una genialata incredibile ho sentito tanti dire che hanno lavorato tanto solo sul centrale invece secondo me non è vero perché hanno lavorato su tutti su tutti i leoni qua vedete alla pila con la loggia della pila nascosta sotto con l'interruttore dietro sto andando a razzo ragazzi a razza razza razzo poi quindi questa qua l'abbiamo pressoché vista adesso vi farò vedere poi girare poi vi faccio vedere il verde che ha la stessa cosa principio di funzionamento questi vanno a coprire poi le zampe poi quando lo trasformerò in robot lo vedete bene guardate come comunque sono fatti bene non si può dire niente questa parte l'abbiamo visto andiamo a vedere l'altro il rosso sto facendo vedere prima la parte in robot vedete scusate prima la parte in leoni e poi vi farò vedere anche il dettaglio quando lo andiamo a unire per vedere i punti di giunzione sono fatti loro veramente bene andiamo a vedere il giallo e anche lui è fatto veramente veramente bene 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 anzi poi vi faccio vedere una cosa il giallo ho già guardate qua ha levato la linguetta non mi hanno convinto le luci che adesso vi faccio vedere perché questo qua si può staccare vedete è semplicissimo qua c'è l'accensione della luce vedete che illumina gli occhi ve lo faccio vedere solo sul leone che però la luce è un po scarsina vedete vediamo se riesco a fare la luce un po scarsina però tutto sommato su quello delle gambe molto più semplice allora adesso qua la spengo gli rimetto la sua targhettina è molto più semplice rispetto ai due nelle braccia a quello centrale soprattutto in quello centrale è stato fatto il lavoro più grande quello sì è vero qua non gli abbiamo tirato fuori le orecchie vedete qua ci sono le orecchie adesso lo spacco spacco in diretta no no guardate ma che bello che bello che bello e bello questo quando passiva aprire si vedevano la testa non lo vedremo dopo il robot adesso stiamo vedendo il leone qua il lavoro è stato quello più sicuramente mastodontico non mi piace questa cosa qua troppo piccoli filettini vedete sotto alla testa che vanno a fare il circuito l'illuminazione li vedete l'anno non mi piacciono per niente questi visibili sotto così non mi piacciono poi che dire qua c'è un bel sistema guardate qua di apertura del praticamente della della spalla che ci permette poi la trasformazione ha fatto veramente blitzway un lavoro eccezionale dai vediamo solo un secondo i leoni poi vediamo la parte robot ragazzi ragazzi ecco qua loro in versione leone che dovremmo dividere in due passerelle perché 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 non ci stanno qua sulla pedana rotante quindi facciamo fare due giri veloce veloce ai primi tre guardate che belli dopodiché andremo a farli fare un giro veloce veloce al le altre due al centrale al nero e al verde che non sono prima guardate comunque sono fatti veramente veramente bene non si può dire niente in merito secondo me sono veramente veramente belli a me piace ovviamente anche il bandai e se devo dire la mia per alcuni versi mi piace anche qualcosina in più però per tantissime altre cose direi veramente che questo è il definitivo anche se trovo inconcepibile il prezzo di questo voltron che secondo me è troppo esagerato questo era voltron che doveva costare massimo secondo me 400 euro perché comunque le due parti della gambe robot centrale grandissima lavorazione grandissimi materiali ma gli altri mica tanto allora adesso mettiamo loro da parte vediamo girare gli altri due quello che bestia lui è bello 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 e lui glielo schiaffeggiamo sotto così in posizione in caprettamento vediamo se alla fine faremo anche un in caprettamento qualche posizione leonesca del camasca del camasutras comunque loro sono veramente belli 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 materiali ci sono sono buoni anche se in alcune parti in alcune parti non mi convince tantissimi cimissimi simus proviamo così in diretta vedere se si riesce a fare una combinazione in caprettamentus vorticoso allora in caprettamentus vorticosus lui però come le leonesse sapete che io sono pazzo ragazzi dovrà mettere le chiappe in terra facciamo di mettervi le chiappe in terra vediamo ce la facciamo ce la facciamo con questo allargamento delle spalle vediamo dubbio a passare anzi questo dovremmo farla così questo è un po sulle punte vediamo facciamo di fare questo inchiappetta mentus questa cosa va ancora abbassato un pochettino vediamo così così sapete che sono pazzo la facciamo lunga ma per altri motivi questa recensione perché ci divertiamo a vedere il nero che inchiappetta il verde eccolo qua questo qua la coda di questo non possiamo spingere verso l'alto sembra che il pettacus il nero sta inchiappettandus il verdes chiudiamogli qua la coda potrebbe qualche bambino vedere questa recensione poi pensare comunque guardate che ci potrebbe essere come natura il leone che inchiappetta se la leone sa vedete più o meno riusciamo anche questa scena potendo di allargare vedete le braccia ma chi ve le fa vedere queste cose le avete viste in un'altra recensione non l'avete viste non c'è niente da fare dai possiamo passiamo passiamo modalità allora ragazzi ragazzi guardate che spettacolarità è in versione anche trasformata al robot guardate qua vi faccio vedere bene la testa aperta che prima ovviamente in leone non l'abbiamo vista eccezionale bella 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 è ottimo anche guardate qua l'attacco vedete dei leoni con una specie di brugola interna tipo fosse proprio va a combaciare non so come spiegarlo tipo guardate qua è andata anche una posibilità incredibile perché si muove anche questa parte qua possiamo alzare guardate qua completamente il braccio i materiali ci sono la l'architettura anche lo studio dietro al modello eccezionale qua non si può dire niente ragazzi ha fatto un'opera leggendaria secondo me è veramente bella peccato il prezzo peccato il prezzo guardate qua ve lo voglio far vedere bene anche trasformato da vicino perché leoni sono completamente diversi vedete le gambe sono soprattutto delle due dei due leoni delle braccia sono completamente vedete coperte e sono veramente eccezionali guardate qua la parte avanti adesso vi faccio vedere anche la parte dietro vedete ha fatto un lavoro magistrale qua ci andrebbe il numerino del leone come negli altri che non ho messo adesso vi voglio far vedere anche un'altra cosa nella parte bassa guardate qua che hanno fatto diversi punti di snodo per poter muovere le gambe guardate qua e ha fatto un lavoro eccezionale veramente un bellissimo lavoro guardate qua è faticoso farlo vedere così ragazzi sono due chili e mezzo montato di voltro eccezionale eccezionale veramente veramente bello dai ma per vederlo bene questo tutto il suo splendore lo dobbiamo vedere girare magari diventa anche qualche arma che spettacolo allora l'effetto scenico non si può dire niente qualcosa di esaltantissimo cioè guardate quale effetto scenico è bellissimo è bellissimo l'effetto scenico nessuno sta a dire non può dire di no è il voltron più bello in assoluto anche del bandai perché l'effetto in vetrina è veramente strepitoso l'unica cosa noto dolente di questa cosa qua secondo me è il comparto a led dovevano mettere una batteria come già detto prima al litio ricaricabile che andava a illuminare gli occhi sarebbe stata una figata invece di queste batterie che non durano niente e che dire anche il fatto del costo perché il costo ragazzi veramente 700 euro secondo me 750 700 euro non li vale ma non li vale perché non è bello ragazzi perché è stupendo il modello è veramente stupendo ma è anche una cifra secondo me veramente troppo troppo alta troppo alta e per questa cifra ci poteva rientrare se le parti delle braccia avevano più metallo perché allora la parte il leone centrale e le due gambe hanno tanto metallo e sono quelli studiati meglio come tre i tre leoni due leoni delle braccia come ho detto inizialmente era una figata perché vanno a scomparire tutte praticamente le zampe si sono inventate sta cosa qua eccezionale però a tantissima ma veramente tantissima plastica i due leoni diciamo sì delle braccia quindi avrei concepito di più una cifra così alta se avrebbero avessero fatto scusate un reparto luci molto migliore a batteria con usb ricaricabile avessero fatto i due leoni delle braccia con molto più metallo però nel complesso non si può dire niente lui veramente stravince il più bello di tutti i voltron sicuramente che ci sono adesso sul mercato spettacolare bellissimo quindi andrei anche a concludere perché lui veramente è bello 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 peccato per il costo non accessibile a tutti possiamo concludere questa recensione del voltron qua della 5 pro studio blitz way dicendo che è veramente un capolavoro è bellissimo effetto scenico eccezionale in vetrina veramente ragazzi è bellissimo e non lo dico per dire perché tanti gli stanno andando contro così io dico la verità a vederlo proprio a vederlo è veramente bello io muovo però tre critiche la prima e soldi costa troppi soldini e non sono giustificati quindi rapporto qualità prezzo da dieci scende a due perché non si può far pagare un modello del genere 700 750 euro i motivi fondamentali che mi fanno dire questa cosa sono due allora che le braccia i leoni delle braccia hanno pochissima plastica e hanno pochissimo metallo a differenza delle gambe il corpo centrale leone centrale che hanno tanto metallo le due braccia hanno veramente pochissimo metallo è bello il fatto che scompaiono le zampe hanno si sono studiate veramente una cosa bella ma la nota più dolente di tutte è il comparto luci veramente secondo me non ottimo non ottimale in questa cifra poteva rientrare benissimo una batteria litio ricaricabile tramite usb inserita all'interno dei leoni col suo impianto di luci di illuminazione molto più potenti agli occhi come diciamo nel negli aeroman e di negli aeroman che troviamo adesso che ho già recensito della z di toys c'è una pila ricaricabile all'interno che praticamente ci permette ore e ore di illuminazione non esce liquida sarebbe stata una figata una mini batteria all'interno ricaricabile come come parte ingegneristica non si può dire niente da quel punto di vista hanno studiato del delle movimentazioni della posibilità alle gambe alla parte alta eccezionale si piega in più punti veramente è un capolavoro come estetica e come ingegneria secondo me è un capolavoro questo modello peccato che con quelle due o tre cosine che avrebbero potuto fare e con il prezzo secondo me è un pelino più ridotto sarebbe stato veramente il top saluto dal carletto spero che questa recensione vi è piaciuta se vi è piaciuto un bel like attivate la campanellina in alto così mi seguete in tutte le mie recensioni e come dico sempre cosa che a voi non costa nulla per una fondamentale iscrivetevi al canale parola spadone guarda che spadone mettete in posa selfie fate di una foto allarga le braccia adesso combina un patatrack e l'abbiamo crocifisso sembra quando più che altro così sembra il il guardian eccolo crocifisso ecco entra uno dentro altro ciao ragazzi ci sta così è stava cadendo lo abbiamo salvato ci sta regge volevo finire così in questa posizione scena che può piacere solo a me però mi piace di saluto tra i vari leoni anche i mezzi ciapette ciao ciao prossima recensione